Buongiorno a tutti. Nell'anno 2020, circa un mese fa, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo rapporto sull'articolo 12 della direttiva. Cosa è questo rapporto? È la rendicontazione dello Stato delle popolazioni degli uccelli selvatici nell'Unione europea proveniente da tutti i rapporti inviati dai singoli Stati membri. Avevamo già fatto presente in un comunicato che Federcaccia aveva collaborato con Ispra per predisporre alcune integrazioni a questo rapporto. Adesso tutti gli Stati membri hanno completato l'invio e un'agenzia apposta scelta dalla Commissione ha predisposto anche delle valutazioni complessive. I dati sono consultabili su Inter. La FACE, l'Associazione dei Cacciatori Europei, ha predisposto invece un'analisi da questi dati del rapporto articolo 12 riguardanti gli uccelli cacciabili, ossia quelli dell'allegato 2A e 2B. Questa pubblicazione della FACE è scaricabile in inglese al link che vi mettiamo sotto questo video. Vi volevo dare alcune informazioni riguardanti i contenuti di questo rapporto FACE che dà un quadro importante sulla situazione delle specie cacciabili. Intanto vi sono alcuni peggioramenti ed alcuni miglioramenti sulle condizioni delle varie specie e alcune stabilità. Cominciando dalle stabilità, la tortora, una specie di cui abbiamo parlato nel precedente video, insomma molto attuale come prospettiva di gestione venatoria, non ha cambiato il proprio stato di conservazione ed è valutata quasi minacciata così come era nel precedente rapporto. Altre specie hanno migliorato la loro situazione, tra queste il tordo sassello e la pernice rossa, altre lo hanno peggiorato. In particolare alcuni uccelli acquatici, tra cui il mestolone, il fischione e in parte l'alzavola. Cosa vuol dire però questo? Si tratta delle popolazioni nidificanti per quanto riguarda queste specie di uccelli acquatici, mentre quelle svernanti sono in una condizione più favorevole. Questo significa sostanzialmente che le specie di questa famiglia trovano una buona situazione per trascorrere l'inverno nelle latitudini dell'Unione Europea, ma non trovano altrettante condizioni favorevoli per nidificare. Ancora una volta si dimostra che l'habitat è una chiave determinante per il soffermarsi delle specie a nidificare e su questo parametro, ovviamente su questo fattore è necessario che gli stati membri e tutti gli portatori di interesse direzionino le loro energie per una valutazione e per una azione di ripristino degli habitat. La FAC ha analizzato anche altri due aspetti importanti, uno di questi è il controllo dei predatori. Numerose pubblicazioni dimostrano che l'azione di controllo dei predatori opportunisti porta a un incremento del successo riproduttivo delle specie stanziali e di alcune specie migratrici, del resto anche alcuni piani d'azione europei prevedono questa misura come azione importante per riportare le popolazioni per esempio dei limicoli a uno stato di conservazione soddisfacente e un altro aspetto interessante è l'azione dei cacciatori su ripristini degli habitat. Proprio in questo capitolo di questo rapporto FACE vi annuncio con piacere che sono stati inseriti ben tre riferimenti italiani, uno di questi è lo studio che Federcaccia ha compiuto un monitoraggio delle azioni di ripristino ambientale compiute sul nostro paese a favore della tortora, i cui dati e risultati sono stati inseriti in questo rapporto, più di 900 ettari gestiti dai cacciatori e spesi con i soldi dei cacciatori per questi miglioramenti ambientali e altri due, uno riguardante un'azione di conservazione di una zona umida da più di 25 anni in un'area della provincia di Bergamo da parte di un cacciatore che ha portato anche alla riproduzione, al soffermarsi in inverno di molte specie e un terzo che riguarda le iniziative di conservazione e ripristino ambientale compiute nella laguna di Venezia dalle aziende faunistico-venatorie che hanno portato la popolazione di Moriglione a aumentare da circa 3.000 a più di 12.000 capi negli ultimi anni e oltre a questo risultato sulla specie cacciabile Moriglione si è verificato anche un aumento di altre specie non cacciabili, quindi un miglioramento complessivo della biodiversità di quest'area. Questo rapporto di face, questa pubblicazione che riassume questi dati è disponibile e sarà consultata sicuramente anche da molti esponenti del Parlamento europeo e della Commissione. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito questi dati, a Federcaccia che ha quindi potuto trasferirli a face, un ringraziamento a tutti i cacciatori e a tutti i gestori degli ambiti che lavorano per il miglioramento degli habitat, la sfida del futuro per la quale conserveremo le nostre tradizioni venatorie. Grazie e alle prossimi aggiornamenti.